È vero che ha fondato quest'ordine e nessuno sapeva chi fosse la fondatrice, andava di nascosto alla fondazione. Sì, nessuno sapeva, perché lei comunicava tutte queste cose con i suoi direttori spirituali. Il giorno della nostra fondazione, il 3 maggio del 1897, sono stati invitati come padrini della fondazione, Concita e Pancho, così chiamavano, Francisco si chiamava il marito, ma in Messico e Francisco si chiamano Pancho. E sono stati lì nella fondazione, ma nessuno dei presenti sapeva che lei era la ispiratrice, la fondatrice. Il marito lo sapeva? No. I mariti sono sempre gli ultimi a essere...